Ciao Girardi, palasporto da 7.000 persone, 3.500-4.000 persone al palazzo tutte le domeniche. Passione su Forlì, importante? Bene, io ragiono sempre che si arriva a 1 con 8 punti di vantaggio sulla seconda. Di conseguenza un giocatore come Marini non serve per arrivare a 1 con 8 punti di vantaggio sulla seconda. Poi non è un giocatore scarso, ci mancherebbe, ci vuole un giocatore come Rosselli. Quello arrivi 1. Ndoia arrivi 1 però. Sì, qualche anno fa dovevo girare con le stampelle, però va bene. Parliamo di bruttini, discorso di Ndoia, un giocatore importante ma non può giocare più di 18 minuti a partita. Non conosco benvenuti. Dell'Agnello? Mi piace un sacco. Buona scelta. Buona scelta Dell'Agnello, allenatore che mi piace, molto. Meglio lui di Panza che tutti volevano. Non c'è paragone. Alfredo mi ha detto che c'è l'americano di Venezia. Marks. Ah, Haines. Non l'avevo capito. Per me è un giocatore da 400.000 euro netti a stagione. Ce la facciamo economicamente parlando. Adesso non c'è più Barbara, quindi. Risparmiamo 4.000 euro, quindi può darci che ce la faremo. Una buona serata dalle colline Bertinoresi, spettacolari, in cui io, Girardi e Giovanni Fussi stiamo facendo delle lingue. Ah-ha-ha. Grazie a tutti.